E' stato rimpatriato, scongiurando il peggio, l'olio su tela, raffigurante la Caritas Romana, dipinto secentesco della piettrice della scuola di Caravaggio Artemisia Gentileschi. E' stato recuperato dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Bari. Apparteneva alla collezione d'arte del conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, che lo aveva commissionato intorno alla metà del Seicento. Era conservato nel castello Marchione di Conversano, tutte informazioni taciute da chi avrebbe provato ad esportarlo in maniera illecita nel 2019, nel tentativo di commercializzarlo all'estero per un valore economico stimato in circa 2 milioni di euro. E invece è andata diversamente. In due sono indagati per truffa ed esportazione illecita di beni culturali. Avrebbero presentato l'opera all'ufficio preposto di Genova del Ministero, non solo dissimulando l'attribuzione all'autrice, ma pure sottostimandone il valore e senza fare riferimento al contesto, ottenendone così un certificato di libera circolazione, con il quale i proprietari avrebbero poi affidato l'opera ad una casa d'aste austriaca, ma tanto le indagini partite dal capoluogo quanto la collaborazione con Eurojust e Polizia Austriaca hanno fatto il resto. E' importante il ritrovamento, intanto dobbiamo dire grazie ai carabinieri di tutela del patrimonio culturale che in tutti questi decenni hanno reso l'Italia più bella. E se non si insegna la bellezza, non si insegna la legalità. E questa è la grande cosa per cui facciamo oggi una conferenza stampa. In realtà non è il reato nella sua gravità, ma il fatto che recuperiamo la nostra storia, il nostro passato, quello che rende noi uomini liberi, uomini capaci di essere veramente uomini.